La flanella cardata esprime serenità e misura e alla scioltezza del trappeggio aggiunge il naturale tepore di una superficie il cui vello ha qualcosa di vivo e misterioso. L'original William Flannel non può mancare in un guardaroba maschile. È preziosa quanto modesta e l'uomo che la indossa appare autorevole e riservato, distante dalle cose ma non dalle persone. Vitale Barberis Canonico la presenta in tutte le livree della tradizione, Pietpool, Principe di Galles ma anche finestrati e gessati di grande sapore. Noi vestiamo vari tipi di persone, quindi noi chiediamo anche che mestiere fanno, perché più si è comodi e più si riesce a rendere anche nel lavoro. Grazie. 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 Grazie.